Io sono un giullare. Chiaramente non ho sempre fatto il giullare, è una professione abbastanza insolita. Infatti non è che quando sono nato la mia mamma mi ha visto nella culla e abbia detto che faccia simpatica li farò fare giullare. No, anch'io come tutti quanti noi sono stato sottratto da quel coacervo di problemi psicologici che è la famiglia e invece mandato in quel luogo di coercizione e tortura che è la scuola. A scuola cosa mi hanno insegnato? L'amore per la conoscenza? Il libero pensiero? No, la competizione con gli altri bambini, del resto è questo che fa la scuola neoliberista. Io ero molto bravo e molto competitivo, la faccio breve, sostanzialmente sono stato bravo a scuola, ho vinto delle borse di studio, sono andato a studiare in università direi prestigiose. Nel giro di poco mi hanno preso subito a lavorare come consulente per un'importante azienda, una importante società che si occupa di transazioni finanziarie in giro per il mondo. Dunque, una decina d'anni fa mi trovavo in Costa d'Avorio, in particolare mi trovavo ad Abidjan. Sapete che la capitale della Costa d'Avorio si chiama Yamsukro, io invece ero ad Abidjan che è la capitale economica dove si fanno gli affari, infatti è l'unica città diciamo veramente un po' conosciuta della Costa d'Avorio. Mi trovavo là perché all'epoca gestivo alcuni affari legati al traffico dei rifiuti. Sapete che sul traffico dei rifiuti c'è un business miliardario, cioè si muovono un sacco di soldi, il traffico totalmente legale è ovviamente dei rifiuti. Io mi trovavo là appunto per concludere un affare e devo dire fare affari nel terzo mondo mi piaceva molto all'epoca perché mentre qua in Europa quando fai un affare da qualche milione di euro, una decina di milioni di euro, incontri funzionari di medio livello, nel terzo mondo è completamente differente, incontri direttamente presidenti, sindaci, assessori. Perciò ricordo molto bene la scena che abbiamo fatto per la conclusione dell'affare, l'abbiamo fatta sulla terrazza panoramica dell'Hilton di Abidjan, una scena straordinaria, pantagruelica, veramente con champagne, ostriche, ogni ben di Dio e io ero molto felice. Ero molto felice e sono andato a letto molto felice e mi sono svegliato ancora più felice perché pensavo a quanti soldi avrei guadagnato da quell'affare e alla promozione che di lì a poco mi sarebbe toccata. Perciò la mattina dopo decido di prendermela libera, decido di farmi una bella passeggiata per il mercato di Abidjan. Il mercato di Abidjan Abidjan è un labirinto, un dedalo di stradine, di terra battuta e pareti di lamiera dove vengono vendute ogni genere di mercanzia un po' più povera. Mi ricordo proprio all'ingresso è come entrare, varcare una nebbia di odori, mi ricordo l'odore del mango, del cardamomo, della menta e anche della frutta matura, marcia anche ai bordi delle strade, non c'erano le fogne, ecco. Entro, erano circa le 10 del mattino e verso le 10 e 5 mi ero già smarrito all'interno del mercato di Abidjan e decido, insomma, faccio questa passeggiata, acquisto qualche oggetto, verso le 11, un'oretta dopo, camminavo sulla mia strada e incrocio una strada diciamo perpendicolare, per puro caso giro a sinistra, il sole era più o meno a quell'altezza, erano circa le 11, proprio nel momento in cui ho voltato l'angolo, anche a una decina di metri di distanza, ha voltato l'angolo un ragazzo. Sapete quando vedete qualcosa con la coda dell'occhio, no? E ci ritornate perché c'è qualcosa che non va. Infatti questo ragazzo, pur avendo 15, 16, 17 anni, insomma era grandicello, gattonava. Allora, guardo meglio, in realtà non è che gattonava, in realtà era talmente deformato che per camminare aveva bisogno di tavolette di legno legate alle braccia e alle gambe e si trascinava così per il mercato di Abidjan a chiedere le lemosina. Quando mi ha visto, chiaramente, io ero bianco e evidentemente più ricco, perciò mi ha subito intercettato per farmi le lemosina, io me ne sarei voluto andare ma ci siamo incrociati con lo sguardo, lui mi ha fatto un bel sorriso ampio, generoso, che mi ha inchiodato sul posto, perciò rimango fermo, lui viene, gli do qualche spicciolo e poi fatalmente quella mattina gli chiedo, ma che te è successo? E lui mi racconta la sua storia, mi racconta che quando era nella pancia della mamma, la mamma per guadagnarsi da vivere andava nella discarica di Abidjan a raccogliere plastica, perché c'è un piccolo commercio di persone che prendono la plastica e le discariche la rivendono e la mamma faceva quello, ma fatalmente nella discarica di Abidjan, come in tante altre discariche del terzo mondo, c'erano anche i rifiuti radioattivi degli ospedali europei e quindi lui, come molti altri, è nato così. Mi racconta la sua storia e lui era per terra e a un certo punto mi sono reso conto, non riuscivo a vederlo, proprio dovevo togliermi le lacrime abbondanti dagli occhi, ma non piangevo per pietà, non avevo pietà di lui, sebbene la sua condizione fosse miserrima, è che in quel momento ho capito che se lui era in quella condizione era causa anche mia, o meglio che la mia ricchezza generava quel tipo di miseria. Lui, vedendo che io stavo piangendo, ha cercato quasi di cambiare discorso, come se avesse parlato troppo oltretutto, io avrei voluto dirgli mille cose, avrei voluto raccontare la mia vita come mai ero lì in Costa d'Avorio, ma, insomma, le cose che volevo dire erano davvero troppe, sono salite tutte insieme nella bocca, si sono aggrovigliate, non sono riuscito a fare altro che far fugliare dicendogli, guarda, scusa. E lui mi ha detto, ma non scusarti, tu sei giovane, sei bianco, hai le gambe, no? Vai, vai dalla tua gente e racconta, racconta quello che hai visto, così magari un giorno queste cose smetteranno di accadere. Questa cosa che mi ha detto mi ha estremamente colpito, perciò, per farla breve, sono tornato all'albergo, ho fatto i bagagli, ho preso il primo volo per l'Italia e quando sono atterrato ho deciso che da quel momento in poi avrei fatto il giullare, che sarei andato nelle piazze, nelle strade, a incontrare le persone, farle ridere e raccontare questa storia, nella speranza che un giorno questa ingiustizia finirà. Ora, in Costa d'Avorio io avevo incontrato l'orrore del mondo, non che in Europa, da noi, l'orrore della disuguaglianza e della povertà non ci sia, ma il mio stile di vita, il fatto che il mio milieu sociale mi teneva al riparo dal vedere certe cose, che invece in Costa d'Avorio mi sono arrivate potentemente in faccia come uno schiaffo. E ho capito, ho capito in quel momento che avrei, insomma, che avrei dovuto parlarne che il mondo così non può andare avanti, ecco, che il fatto che per la ricchezza e il benessere di pochi debbano soffrire in molti sembra la realizzazione di una distopia, non è certamente il mondo che vorrei, ritengo che per essere liberi e felici debbano essere anche gli altri. Quindi ho deciso di parlare di questo, io lì in Costa d'Avorio ho incontrato come la manifestazione, un episodio a dimensione umana del colonialismo, il fatto cioè che i paesi più ricchi e più potenti militarmente vanno a impoverire altri paesi per sottrarre ricchezza e proprio beneficio. E di questo, sebbene sia incredibile probabilmente pensare che i miei spettacoli siano comici, nei miei spettacoli comici in realtà parlo di questo. Ma oggi, oggi non vorrei parlare dei miei spettacoli, vorrei parlare di un progetto, di un progetto differente e che ritengo più interessante perché coinvolge centinaia di persone in giro per l'Europa. È nato durante la pandemia, è nato perché la difficoltà del tempo mi ha messo di fronte all'impossibilità di fare spettacolo, di fronte all'impossibilità di andare a trovare il pubblico. Perciò ho dovuto cercare un'alternativa per portare avanti il mio discorso e l'aiuto me l'hanno offerto le tecnologie, me l'hanno offerto le possibilità di internet e dei social. Grazie all'utilizzo delle tecnologie ho potuto mettermi in connessione con altre persone in Italia, con altre persone in Europa, con persone che in qualche modo sono mosse da una comune sensibilità. Ci siamo messi insieme e abbiamo generato questo progetto. È un progetto che si chiama Face the Wall e riguarda il tema delle migrazioni. C'è qualcosa che ritengo e che riteniamo particolarmente odioso. Il fatto cioè che quando le persone che sono impoverite dalle guerre, le carestie, i mutamenti climatici dovuti al colonialismo o quantomeno in cui il colonialismo ha inciso peggiorando la situazione, ecco quando queste persone cercano di scappare e di trovare un futuro migliore altrove e quando poche decine di migliaia di queste milioni di persone impoverite riescono arrivare ai confini dell'Europa trovano un muro, trovano un'Europa sempre più intenta a innalzare barriere su una stupida retorica dell'invasione, su una stupida retorica del noi contro di loro. Poche decine di migliaia di persone stanno mettendo in mostra le contraddizioni di un'Europa che si farebbe e si configurerebbe come la patria dei diritti umani e che poi questi diritti umani non rispetta lasciando che centinaia di persone muoiano in mare, uomini, donne, bambini. Ecco questo per noi è particolarmente odioso, perciò abbiamo deciso di creare un progetto artistico che sia da un lato un progetto di memoria ma dall'altro anche un progetto di denuncia. Abbiamo deciso di mettere le nostre facce in senso proprio letterale, abbiamo messo a punto una tecnica per realizzare calchi in gesso dei nostri volti e abbiamo deciso di prestare collettivamente i nostri volti per queste persone che hanno perso la vita e che le politiche di chiusura europee hanno progressivamente invisibilizzato. Il nostro non è un gesto di appropriazione dell'identità di queste persone, non vogliamo sostituirci a loro, non vogliamo metterci sullo stesso piano, è chiaro che c'è un piano differente, noi siamo estremamente più privilegiati, ma vogliamo segnalare con un gesto di cura verso questi corpi morti e abbandonati, un gesto di cura che si ispira al gesto di antigone che va a seppelire il corpo di suo fratello. Vogliamo testimoniare fratellanza, vicinanza, unione, il fatto che non siamo poi così distanti, il fatto che nel momento in cui muoiono loro anche una parte di noi muore. Allora centinaia di persone in giro per l'Europa hanno aderito decine e decine di persone in varie città, ognuna sta mettendo il proprio volto con l'idea che poi queste calchi, queste maschere che stiamo realizzando sbuchino sulle mura delle varie città che aderiscono. Le maschere che sono in questo momento dietro di me sono solo una piccola parte, un piccolo esempio, queste il 3 ottobre sbucheranno nelle varie città perché i corpi lasciati insepolti poi si trasformano in fantasmi e questi fantasmi appariranno sulle mura delle città. Il 3 ottobre perché? Perché è l'anniversario della strage di Lampedusa, quando nel 2013 quasi 400 persone morirono a mezzo milionautico dalla costa. Proprio laddove le persone vanno a fare il bagno, ecco, 370 persone che scappavano dalla guerra, in particolare erano quasi tutte provenienti dal corno d'Africa, morirono. È stato il primo evento mediatico su questo tema e noi vogliamo ricordarlo facendo apparire questi fantasmi in giro per le città europee, a testimonianza che una memoria c'è e a testimonianza che qualcuno ci sta mettendo la faccia, che non sono dimenticati, a testimonianza che per creare un mondo di felicità e di ricchezza devono esserlo tutti ricchi e felici. Per cui noi stiamo mettendo la faccia e ecco, vi chiediamo, mettetela anche voi. Grazie.